Stai in la cerca. Ho da fare. Ha detto che è urgente. Non capisco come sia possibile. L'ho controllato due volte. Quanto? Dieci casse. Dieci casse? Da tre anni a questa parte. Che diavolo facevi? Tu dovresti dirigere questo posto. I documenti che ho firmato sono regolari. Deve aver alterato gli ordini dopo. Non hai mai fatto un controllo incrociato con le fatture? L'ho delegato. A chi? A Gail. Sembrava così affidabile. Come potevo immaginare. Facendo il tuo lavoro? Mi dispiace. Hai avvisato l'antidroga? La dea. Cavolo, Stan, sveglia. Uno non ruba 50.000 dollari di pasticche solo per dimagrire. Rifornisce una raffineria. Falla tornare qui. Va bene. Subito. Grazie. 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 Grazie.